11 novembre 1961. A Kindu, nell'ex Congo belga, 13 aviatori italiani facenti parte delle forze di pace dell'ONU vengono trucidati dai guerriglieri della fazione di Antoine Ghisenga. Il Congo è in piena guerra civile. Insieme a Ghisenga si contendono il potere nel paese il presidente Joseph Casa Wubu e i catanghesi di Moise Cionde. I soldati italiani vengono ingiustamente accusati di fornire armi ai secessionisti. I loro resti saranno ritrovati nel 1962 nel cimitero del piccolo villaggio di Toloche. Solo nel 1994 sarà riconosciuta la medaglia d'oro al valore militare alla memoria. La regione del Kivu, nel Congo. Da un aereo si gettano fiori sulla zona di Kindu, dove nel novembre del 1961 13 aviatori italiani vennero barbaramente trucidati. In quell'occasione si parlò del colonnello Pakassa come del maggiore responsabile. Quel nome nei giorni scorsi è ritornato sulle cronache dei giornali, ricordando a molti italiani il lutto di due anni fa. Qui è Piero Angela che vi parla da Parigi, dall'aeroporto di Orly. Ed è qui all'aeroporto di Orly che qualche giorno fa un passeggero in provenienza dall'ex Congo francese è stato arrestato. Sul suo passaporto figurava il nome di Gifuza, ma la vera identità del passeggero era un'altra, si trattava dell'ex colonnello congolese Pakassa, uno dei responsabili del massacro dei 13 aviatori italiani a Kindu. Dal giorno del suo arresto una specie di sipario, di silenzio è sceso sul suo caso. Nessuna informazione viene comunicata, non esistono fotografie, non si sa neppure dove si trovi e non è stato neppure arrestato, ma semplicemente fermato per accertamento di identità. Ricordate cosa avvenne a Kindu il 16 novembre 1961? Ecco come Sergio Zavoli, inviato della radiotelevisione italiana, riuscì a documentare l'accaduto in un crudo e rapido reportage. Qui, in questa villetta che sembra pronta ad accogliere un party, avvenne il primo atto della tragedia. Ora è il maggiore Daud che parla. Eravamo 24 persone, 13 italiani, 10 uomini miei e Dio. Qualcuno sulla veranda, gli altri all'interno. Questa finestra era aperta. Di qui uno di noi tenterà di fuggire. Alle 16 e 15 arrivò uno scaglione di 80 congolesi. Ci chiudemmo dentro e raccorsi subito i documenti di identità. Spondarono la porta. Nessuno aveva armi tranne un mio ufficiale. Furono tutti malmenati, io venivo tenuto contro il muro con una baionetta alla gola. Un italiano, mi pare il medico, fuggì dalla finestra e per lui la tragedia finì subito. Qui era la tavola della mensa. Alle 16 e 30 giunsero altri 300 congolesi. C'era anche il colonnello Pacasa. Non sono spie di ciombe, dicevo, e indicavo le divise, i fregi, il distintivo dell'ONU, le carte di identità. Colpirono col calcio del fucile. In terra ancora i segni di quella violenza. Alle 16 e 50 riportarono via.